non accetteremo più promesse le opere fognarie e il disinquinamento del fiume sarno sono un nostro diritto e questo è il monito che il comitato acquamunda uniti per il sarno rivolge al governatore della campania vincenzo de luca dopo aver appreso dal sindaco di nocera inferiore torquato che la vicenda delle opere fognarie è inspiegabilmente tornata un binario morto pretendiamo le opere fognarie pretendiamo il disinquinamento del fiume sarno non possiamo rassegnarci all'inquinamento e alle malattie scrivono sulla loro pagina facebook i cittadini che fanno parte di questo corposo comitato che da tempo ormai sta lottando affinché si possano effettuare quegli interventi indispensabili per salvare l'ambiente dell'agro sarnese nocerino dall'attuale drammatica situazione se non ora quando scrivono dal comitato acquamunda perché alla luce delle dichiarazioni del primo cittadino di nocera si è venuti a conoscenza che non è stata fissata la data d'inizio per l'esecuzione delle opere attinenti al primo lotto delle reti di collettamento fognario e che non esisterebbe nessun progetto esecutivo per la realizzazione del secondo e terzo lotto se il fiume sarno è sempre più inquinato e provoca malattie se la rete fognaria rischia di rimanere così come cosa rispondere al sindaco che ha esclamato qualche giorno fa siamo in alto mare va constatato scrivono ancora da acquamunda con nudo realismo che niente è stato fatto e niente si prevede di fare per le importantissime fondamentali opere pubbliche la cui realizzazione attesa dal dopoguerra il luglio scorso lo stesso deluca da nocera inferiore rilasciò la promessa che si sarebbe personalmente occupato della situazione legata alla risoluzione dell'inquinamento del fiume sarno qualcuno si chiederà quindi di cosa pensare di quelle parole ripetute tra l'altro anche in altri appuntamenti successivi per le preelezioni acquamunda conclude il suo intervento sottolineando che l'attuale situazione di emergenza non può far passare in secondo piano invece un'altra emergenza sanitaria proprio quella che riguarda l'inquinamento del fiume sarno che rappresenta per i nostri territori una situazione drammatica come cittadini non possiamo più accettare ritardi colpevoli e omissioni che ha il dovere di operare lo deve fare e subito scrivono ancora non si può più aspettare la classe politica nella sua intierezza non può rimanere indifferente al protrarsi ingiustificato di questa situazione di inadempienze e per la mancata assunzione di responsabilità